Le malattie croniche legate all'inattività fisica sono diventate un problema globale, a livello sociale ed economico. Ecco perché Tecnogim ha ideato la campagna internazionale Let's Move for a Better World, orientata alla promozione di uno stile di vita più attivo. In Sicilia, la Well Next Partner della Palace Port Mangano di Sant'Agata è uno dei pochi centri a partecipare al contest con oltre 500 club di tutto il mondo. Più ti alleni e più vincono tutti, il centro, la comunità locale, i clienti, tutti insieme per raggiungere l'obiettivo della donazione al reparto di pediatria di macchinari Tecnogim contro l'obesità infantile. Una campagna che ha un fine benefico sempre di diffondere la pratica sportiva perché sappiamo che molte malattie sono legate alla sedentarietà e che il problema dell'obesità sta diventando sempre più pesante nel mondo occidentale. Noi ci proponiamo intanto di dare porte aperte al centro perché tutti possano venire a donare i move, che sono delle unità di movimento che i nostri macchinari registrano, al raggiungimento di questi limiti di milioni di move, 5 milioni di move, vinceremo questi macchinari. L'iniziativa è un valore sociale importante perché permette di diffondere alla cultura della prevenzione dell'obesità. E' su questo che noi ci principalmente, l'azione di partenariato che stiamo svolgendo è proprio questa, cioè noi abbiamo un ritorno di salute nel territorio non indifferente. Sarà possibile donare i move dal 13 al 31 marzo? Un bambino obeso sicuramente sarà un adulto malato, quindi l'obesità è un problema serio. Bisogna mettere le condizioni ai bambini di muoversi soprattutto, programmare i relatosi, videogiochi, televisioni, internet, telefonino. Queste sono tecnologie belle ma che impediscono al bambino di muoversi. Importante è naturalmente la dieta, quindi un'alimentazione corretta. Si diventa obesi perché fa bisogno energetico che si incamara e molto di più di quello che si spende. Io dico sempre che non si ingrassa più per quello che si mangia ma per quello che non si brucia. Quindi questa cosa ci vede molto entusiasti e cerchiamo di promuovere questi move, di coinvolgere molte associazioni, la società civile, la società sportiva, i politici, in modo tale che possiamo avere questo successo.